ragazzi non mi crederete mai ma vi assicuro che è la pura verità non sono mai stato sincero come in questo momento io non sono quello che sembro non per essere ripetitivo ma non sono quello che sembro certo cammino a porto zampe scordi solo se sono felice o i baffi sbavo un fiuto formidabile sono peloso e ho la forma di un sassicciotto ma non sono un bassotto sembra un bassotto in realtà ma non sono un bassotto insomma io sono nicola capite quell'icola che fino a ieri giocava a pallone in cortile faceva gli esercizi di matematica e di grammatica mangiava con la forchetta e girava con un bellissimo paio di blue jeans quello che parlava anziché abbagliare che faceva la pipì ad una tavoletta e non la gamba quello che portava una collanina e non un guinzaglio quello che si spavaranzava a guardare la tv sul divano e non sopra una pozzolentissima cuccia quello che andava a cuore in bicicletta come potrei rassare sopra una bici con le gambe cortissime almeno somigliassero ad un alano a questo punto una vostra domanda è lecita se tu davvero non sei un cane bassotto se sei davvero nicola allora chi è quello che se ne va in giro per casa tua usa il tuo spazzolino dorme nel tuo letto in questo preciso momento sta abbracciando la tua mamma prima di andare a scuola non avete ancora capito ma certo è boldo il mio cane tutto è cominciato domenica scorsa siamo andati al mare il mare era splendido e calmo l'acqua era luccicante e cristallina la sabbia fine e calda ero alla ricerca di conchiglie su varie forme e colori quando poldo scavando franticamente nella sabbia umida ha trovato un cristallo da mille riflessi colorati io l'ho preso e l'ho messo nel sacchiello insieme alle conchiglie quando siamo tornati a casa la mamma ha scoperto che io e giada avevano lasciato in disordine la cameretta eppure c'era solo il letto disfatto per terra barba mamma e lochitti e delle bambole di giada il mio stegosauro il mio sacchiotto bianco e mattoncini leggo spazi dappertutto sì sì d'accordo forse un po di disordine c'era ma dico io c'è bisogno di prendersela tanto cosa ti avevo detto prima di uscire di riordinare la stanzetta ricordi ma non giocato sono io c'era anche lei non gioco mica con le bambole io non è vero hai giocato a me non interessa avevo chiesto di ordinare e adesso lo fai adesso lo fai mi dispiace vorrei dire sulla mamma ma non è giusto non c'è sempre a me a mettere in ordine voglio essere più libero libero come te pollo che non fai nulla dalla mattina alla sera voglio vedere tutto in ordine tra dieci minuti vabbè vabbè ho capito che vita da carne zitto tu la vita da carne è la mia non la tua non posso mai fare quello che voglio Nicola sbrigati e prepara la cartella per domani che ti dicevo sempre ordini uffa che stress dopo una giornata così vuole solo andare a letto beato te che non fai nulla dalla mattina alla sera puoi fare tutto quello che vuoi un cane deve fare tutto quello che gli dicono gli adulti come vorrei essere un cane ma per far piacere alla mia mamma ho ordinato la mia stanzetta e ho poggiato le conchiglie e il meraviglioso cristallo sul mio comodino durante la notte mentre dormivo mi sono svegliato perché mi è sembrato di vedere un lampo ho pensato che stesse per scoppiare un temporale ed io non provo tremendo le temporali ma siccome non ho sentito nessun tuono mi sono ri addormentato tranquillamente al mattino la sveglia ha suonato aveva ancora gli occhi chiusi quando ho sentito una puzza terribile forse devo decidermi a fare il bagnetto a poldo altrimenti la mamma non mi permetterà più di farlo dormire nella mia cameretta mamma quello sono io che ti faccio la cuccia di poldo ma cos'è successo oh ma chi hai da urlare sono diventato te un bambino parlo e ora cosa faccio ma che dici tu sei pazzo tu sei un bambino io un bambino ok sei pazzo ok porto stai calmo e solo immaginazione ciao palda magari fosse tutto un sogno io ora sono un bassotto e tu un bambino che guaio e adesso come facciamo però è proprio quello che desideravo essere un cane potrebbe essere divertente che bello poter rimanere a casa dormire giocare quanto voglio poi ancora dormire 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 e poldo caro poldo ora a scuola ci vai tu povero poldo fai capricci perché non vuole andare a scuola non sa ancora cosa lo aspetta e poi lui non è abituato ad avizzarsi presto mamma non vuole andare a scuola niente storia di cola ora fai colazione per la scuola cosa vuoi nel latte i miei più cantini preferiti mamma guarda nicola dai non fate così non litigate ma lui sbrigatevi dovete ancora lavarvi e vestiti dai forza andiamo che siamo già in ritardo buongiorno bambini buongiorno maestra facciamo l'appello laura presente angelica presente debora presente francesco presente nicola come mai nicola non c'è non lo so maestra stamattina l'ho visto in cortina non so come mai ancora non sia arrivato in classe nicola perché non sei in classe la campanella è già suonata ma dove la mia aula io non so se il solito burlone andiamo ti accompagno buongiorno signora maestra nicola maggiore a te gli corridoi come la tua collina smanita e io l'ho ripostata all'obbire buona giornata grazie signora russita buongiorno nicola ci stavamo preoccupando sei in ritardo oggi non ricordavi più dove fosse la tua aula cosa dell'altro mondo ciao a tutti i bambini nicola ti senti bene sei un po' stranato beh beh sto bene secondo me c'è qualcosa che non va hai la febbre? non c'è ma maestra sto bene hai visto nicola balberto e da quando Nicola che fai? alzati subito e siediti mettetela voi ora basta Nicola sta seduto composto iniziamo la lezione allora ripetiamo le tabelline vediamo un po' Deborah 7 per 8 56 brava allora Greta 6 per 7 42 giusto 4 per 8 io io 32 bravissima adesso Nicola 2 per 4 cosa? 2 per 4 dai Nicola è facile si si è facile Nicola allora 2 per 4 8 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 No, bene, va bene una. Che pacchia! Finalmente posso giocare quanto voglio. Allora, bambini, ora disegnate un triangolo scaleno con i lati di 9, 12 e 15 centimetri. Corsa! Ma cos'è? Si baggia? Può fare lo stupido, lo sai benissimo. Ma ti sembra un triangolo questo? Ora basta, c'è qualcosa che non va, non capisco! Ma, ma, che hai fatto? Uffa! È passata un'ora e mezza e non so più cosa fare. Che noia! Quando torna Poldo, chissà cosa starà combinando a scuola. Lui sicuramente si starà divertendo con i miei compagni. Io, invece, ho bisogno di coccole e di compagnia. Cominciò a tirare il cavolfiore e tira tira quando lo sradicò. Nel terreno s'aprì come un pozzo. C'era una scaletta e le discese. Trovò una casa piena di gatti, tutti affacendati. C'era un gatto che faceva il bucato, un gatto che tirava acqua da un pozzo, uno che cuciva, un gatto che faceva il pane. Gatto, gatto, gatto! Oh, mamma, quanti gatti! I gatti no! Ho paura dei gatti io! Nicola, ma che ti prende? Alzati e siediti immediatamente! Uccellini, conigli, farfalle, per i gatti no! Ti prego, ti prego! La mia pazienza ha un limite! Che giornata! Nicola, che stai dicendo? Tu non hai paura dei gatti. Eccolo! Che faccia è bronciata! Cosa si è successo a scuola? Com'è andata già a scuola? È stato un disastro. Non conoscevo nessuno. Non sapevo rispondere alle domande della maestra. Ma cosa sono i capellini? Nicola, cos'è quella broncia? Avevo disegnato un bellissimo gigantesco osso. La maestra mi ha sgridato. Ma perché? Io lo so! Ma perché hai disegnato un osso? La maestra ti ha sgridato, la maestra ti ha sgridato. Tesoro, ma che ti succede? Sei sempre stato bravo a scuola. Forse hai bisogno di riposarti. Ora mangia che fai una bella dormita. Vedrai che dopo stare meglio. La mamma non immagina minimamente quello che ci sia successo. Bene, come ti senti Nicola? Meglio, vero? Forza, viene a fare i compiti. Devo proprio! Su, dai, ti aiuto io se c'è bisogno. Che giustizia! Quando le chiedevo di aiutare in matematica, mi diceva sempre che era molto occupata. Nel frattempo io mi annoio. Che barba essere un cane. Per giunto è un bassotto. Ho finito finalmente! Posso andare a giocare ora? Ma certo! Pronto, chi parla? Buongiorno signora, sono Francesco. Vorrei parlare con Nicola. Sì Francesco, ora te lo passo. Nicola, vieni, c'è Francesca al telefono. Ciao Francesco! Ciao Nicola, come stai, tutto bene? Sì, sì, sto bene adesso. Oggi vuoi venire a giocare al parco con noi? Un attimo, chiede mia madre. Mamma, posso andare con Francesco e gli altri a giocare al parco? Pure io voglio andare al parco con Nicola! Ma certo, fantastico! Mamma, puoi venire anche Giada? Sì, ma mi raccomando, non perderla mai di vista. Ok, evviva! Francesco, arriviamo subito! Ok, ciao, ci vediamo là. Dai, andiamo a vestirci! Che strano, non l'ho mai visto così entusiasta. Di solito fa tante storie quando le chiedo di badare a sua sorella. Ciao mamma, non usciamo. E io? No, no, poldo! Non puoi lasciarmi di nuovo qui a casa. Che tristezza rimanere solo. Vorrei stare con i miei amici. Vorrei abbracciarli. Ma non posso, perché sono solo un cane. Ed io credevo fosse bello essere un cane. Quando ero bambino non ho mai pensato come si sentisse solo il mio poldo. Davide! Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ma che mi ha dato il tuo agliotto? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ciao ragazzi! Ciao Nicola! Ciao Nicola! Ciao Nicola! Perché portate tutta sorella? Hai sempre detto che è una piccola pestiliziata? Ah sì, lo dirà mamma! Ma non è vero, è adorabile! Oggi giocherà con noi, che ne pensate? Sì! Nicola! Amico mio, a me lo puoi dire, sono tuo amico, ma che ti succede oggi? Nulla, nulla, tutto ok. Com'è bello stare con voi, avrei tanti amici, giocare insieme. Nicola, sembra che oggi sia il primo giorno che giochi con noi. Beh, sì, in effetti è così. Ma che dici, giochiamo da sempre qui al parco. No, mamma, vuol giocare un po' con me, ma io non ho voglia di giocare. Sono troppo triste. Andiamo al passeggio? Finalmente si esce, sono felice, sto per andare al parco anch'io. Aiuto! È troppo alto per me! Mi gira la testa! Hai paura dello scivolo? Che papà molle! Dai Nicola, non scherzare, sali e scivola! Non ci penso proprio, forse non stai scherzando. Adesso ti aiuto io, fatemi spazio ragazzi. Chiudi gli occhi e metti un piede qua, un piede là, qua. Bravo! Come stai in gola? Tutto bene? Sembravi pietrificato dalla paura. Grazie a voi sto bene ora, ma è stato terribile. Ma io non capisco. Fino a ieri non avevi paura di nulla e oggi che ti succede? Uffa! La solita passeggiatina alle cinque minuti. Ed io che credevo che la mamma mi avrebbe portato al parco. Invece sono di nuovo qui, in questa cuccia puzzolenta. Adesso Poldo si starà divertendo con i miei amici. Potrei scappare per andare anch'io al parco, ma sarebbe troppo pericoloso per me. Giochiamo a nascondino? Sì! Sì, che bello! Ma come si gioca? Dai Nicola, non farlo stupido, conta tu. Ma io non so contare. Uno, due, quattro, otto. Nicola, non imbrogliare, conta bene. Sei, cinque, quattro, dieci, quindici, diciotto. Oggi tuo fratello è proprio strano. Anche a scuola hanno combinato di più di coloro. Non ditelo a me, stamattina diceva di non essere un bambino, è proprio impazzito. Uffa, che noia. Poldo non è ancora tornato. Mi sento proprio trascurato al mio padroncino. Da cosa avrei dovuto aspettarmi da lui? Anch'io lo lascevo spesso a casa. Anche quando avrei potuto portarlo con me. Ah, se potessi tornare bambino. Ma guarda un po', che fortuna. La porta è socchiusa. Questi qua si vado anch'io al parco. Ho deciso. Vado. Mamma mia. Che paura. Gli automobili sono enormi e veloci come i treni. Vero male. Ecco della stiscia pedonale. C'è l'ho fatto attraverso la strada. Ma è stato terribile. Che durino delle zuste salsicce, sento con il mio formidabile fiuto. Quelle salsicce devono essere mie. Sarà un gioco da ragazzi. Ops, da cani. Brutto cagnaccio, veniva. Aiuto, aiuto. Signora, come sta? Riente di rotto? Tutto bene? Grazie, grazie. Sto bene. Per poco quel full bus non mi ha rubato la cena. Signora, l'importante è la salute. Presto, aiutiamo questa povera signora. È stata credita da un cane. Chiamatela a caloppiacani. Tranquillo, l'ho già chiamato io. Forza, aiutiamo la mia zaste. Ok, dai. Ma com'è che vuoi rubare? Dov'è il cagnaccio? È andata da quella parte. Ti ho preso il brutto cagnaccio, ladro di salsicce. Che vita da cani. Volevo solo una salsiccia. Invece mi ritrovo solo solette questa gabbia del canile. Prenda e sporca. Ma non sono solo. Calma, amici miei. Una alla volta. Se no non vi capisco. Voglio tornare dalla mia padroncina. Sarà un pensiero per me. Io voglio la mia calda cuccia, la mia ciotola e il mio gustosissimo osso che ho sotterrato in giardino. Anch'io voglio uscire da qui. Voglio tornare dalla mia mamma. Io devo andare via da questo postaccio. I miei piccoli mi aspettano. Capite? Potemi uscire. Voglio la mia libertà. Come vi capisco? Non preoccupatevi, amici miei. Sono arrivato io. Super bus. Fuggite. Svelti. È l'ora della libertà. E' l'ora della libertà. E' l'ora della libertà. Lo sapevo che da te c'erano da aspettarsi. Sono guai. Lo avevo capito che non eri un cane come gli altri. Ma ora avrai quello che ti meriti. Sono fuggiti tutti, ma ho ripreso almeno a te. Questa volta ti chiudi in gabbia e butto via la chiave. Ecco quello che farò. Biscusi. Ha visto a queste parti? Questo cane Bassotto è il mio padrone. Ma cosa dici? Ebbè, cioè il mio cane. Ah. È Bassotto. Sono ispirato. Sei perso per colpa mia. No, quanto mi dispiace. Un cane così non l'ho proprio visto. Non preoccuparti. Vedrai che lo ritroverai. Non spero tanto. Ma dove sarà? È scoppasso già da un giorno. Se sei stato un buon amico per il tuo cane, stai tranquillo. Vedrai che ritornerà. Tutti i cani sono liberi. Beati loro. Potranno trovare qualcuno che si occuperà di loro. Li correrà. Li nutrirà. E li renderà felici per sempre. Io invece sono qui. Sono l'abbandonato. Chissà se Polio si sta preoccupando della mia scomparsa. Sono ore e ore che lo aspetto in vano. Un omaggio senza speranze. Rimarrà per sempre in questo posto orribile. Avete trovato un cane bassotto nero? Sì, sì, seguitemi. Ma chi è quel bambino? Sì, è proprio lui. È Polio che viene a prendermi. Che felicità. L'ho cercato per ore e ore. Sei sicuro che lo rivuoi? A me sembra un cane molto pericoloso. Sì, sì, certo che lo rivuoglio. È il mio amico. Non posso stare sotto di lui. Allora mi vuole bene. Merita proprio una leccatina. Poldo! Finalmente! Grazie, Poldo. Sei il mio eroe. Forza, torniamo a casa. Che bello essere finalmente il nuovo calduccio. E soprattutto con tutta la mia famiglia. Dopo la cena deliziosa, ci vuole proprio una bella dormita per la mia persolente, ma morbidissima cuccia. È stata una stana giornata. Come dire, una giornata da cani. Buonanotte a tutti. Mi siguro agli occhi per la stanchezza. Ma dove sono? Nel mio letto? Allora ho sognato tutto! Evviva! Sono un bambino! Un bambino diverso, però! Ecco, Tipoldo! Ti voglio tanto bene, amico mio. Non ti trascurerò più come prima. Su, pigrone! Da oggi voglio giocare di più con te. Ti prometto che quando tornerò da scuola faremo tutto insieme. Saremo due inseparabili amici per la pelle. E' bello stendarsi ogni mattina E' bello ogni cosa più bella di prima E' dare il buon giorno anche intorno a te E' essere felice senza perché La sera sei stanco ma non ti rappisti Mi infili nel letto e più non resisti Rilassi il tuo corpo, non pensi più a nulla C'è solo una stella che dolce ti cura Furi lontano dal mio chissà Dove il tuo sogno ti porterà Fogli i rispegni e per magia Tutto svanisce e volato via E' bello stendarsi ogni mattina E' bello ogni cosa più bella di prima Offrire un sorriso anche intorno a te E' essere felice senza perché Senza un perché E' bello stendarsi ogni mattina E' bello stendarsi ogni mattina E' bello stendarsi ogni mattina